Certo, è un'iniziativa importante dove abbiamo cercato di coinvolgere tutte le associazioni di poggiudizi e questo ci ha fatto veramente piacere, il fatto stesso che i rioni ci hanno intervenuti così repentinamente dal momento che abbiamo fatto il primo incontro, perché per noi non ci conoscevamo e quindi per noi è stata veramente una cosa eccezionale. Come è eccezionale la risposta che stanno dando i cittadini, cioè vuol dire che questa è un'iniziativa valida, concreta dove non è che la gente se dona un euro dopo non si sa dove vanno a finire, questo si sa che vanno a finire a Siena e dove so già che la Menarini per esempio ha già iniziato a fare i primi siedi e questo è importante, è fondamentale perché questo ci permetterà forse un domani, come dice appunto, di tornare a essere vicini e questa è la cosa fondamentale. Parliamoci chiaro, siamo uno dei primi negozi della cooperativa che è all'apice per le donazioni, questo penso sia a noi come sezione soci ma anche tutta la cittadinanza deve essere grata di questo, ma veramente contenta, diciamo così, siamo contenti. È una bella iniziativa e un'iniziativa fondamentale per la ricerca. Considerate che con questi soldi raccoglieremo, pensiamo di raccogliere circa un milione e mezzo di euro, in questi milioni e mezzo di euro ci saranno la bellezza di sei ricercatori che andranno al regime, in quanto attualmente a Siena hanno dovuto sospendere le ricerche che facevano precedentemente sui tumori e altre iniziative, quindi per noi è fondamentale dargli questo contributo. Poi anche un contributo, la gente non si deve sentire impegnata a donare cifre enormi, però basta anche un euro perché poi la ricerca possa andare sempre più avanti.